Un corso di formazione sulla meteorologia in quattro serate per i 51 membri del gruppo volontari di protezione civile a Vicenza. L'ha presentato l'assessore Cangini, il corso organizzato in collaborazione con l'associazione Serenissima Meteo che gestisce il sito www.nordestmeteo.it. Gli incontri saranno aperti anche ai volontari di protezione civile dell'Ato, nell'ambito territoriale omogeneo, che comprende i comuni della cintura e i tecnici di AIM.